Io sogno domenica di poter battere l'Inter, questo è normale, come penso che gran parte dei nostri tifosi, gran parte dei miei giocatori sogni, se dice potessi realizzare vorrei battere l'Inter domenica appunto, poi penso alla partita successiva, dobbiamo pensare al quotidiano se no non lo viviamo neanche il tempo. Mi sembra che in questo momento c'è uno spirito giusto a livello di allenamenti, di sacrificio anche, adesso i risultati poi ti rinforzano o ti mettono sotto prova per vedere se riesci a sopperire a dei momenti magari dove i risultati non ci sono e i gruppi si costruiscono anche così, le squadre che diventano poi squadre vincenti nel senso di squadre che raggiungono gli obiettivi prefissati si costruiscono in questa maniera qui, a volte da un pareggio o da una sconfitta puoi trarre insegnamenti che ti possono far crescere. Sicuramente è una squadra fortissima, al di là di tutto Mourinho o non Mourinho, l'Inter è una squadra a livello tecnico tra le più forti se non la più forte in assoluto, non a livello nazionale, a livello europeo, quindi quando avrà trovato le giuste misure è una squadra temibilissima perché tra parentesi oltre alla tecnica è una forza rispetto alle altre spaventosa dal punto di vista proprio fisico, squadra fisica di grande qualità, non ha punti deboli da nessuna parte, ha molti giocatori fuori adesso, specialmente nel reparto difensivo che sono giocatori di grande livello. Io non invidio nessuno per nessun motivo, ognuno ha, secondo me come dice il proverbio, ciò che si merita, ciò che si costruisce nella vita, nel tempo, con fatica, Mourinho viene dal basso, è uno che è partito dalla Serie C, si è costruito la sua carriera, la sua fortuna, oggi è uno dei club importanti d'Europa, uno dei più importanti d'Europa, ha delle buone armi e sicuramente le saprà far valere. Io vorrei solo augurarmi o augurare ai nostri tifosi, di vivere un anno di soddisfazioni e di qualche piccola rivincita e cominciare a cementare un gruppo che possa dare continuità al lavoro dei prossimi anni, questa secondo me è la cosa che interessa più ai nostri tifosi, di avere un minimo di orgoglio, di non abbassare mai la testa davanti a nessuno, di avere quella dignità che anche i più piccoli, i più poveri, se tirano fuori qualche altro attributo probabilmente se la giocano con tutti.